nell'odierno tempo di disordinato ordine di disumana umanità e di costante guerra presentata come pace non dovrebbe stupire se fosse istituito un premio per il terrorismo internazionale ebbene qualora codesto premio venisse attivato esso dovrebbe indubbiamente essere assegnato alla monarchia del dollaro ossia al leviatano a stelle strisce statunitense che si caratterizza infatti oltretutto per essere campione di terrorismo internazionale gli stati uniti d'america la talassocrazia neo leviatanica dal dollaro sono in effetti l'emblema della democrazia missilistica da sporto il non plus ultra dell'imperialismo etico la vetta insuperata dell'embargo terapeutico e per seguitare in questa serie di ossimori efficaci sono non in ultimo il vertice irraggiungibile della disumana umanità quotidiana dell'interventismo umanitario come lo definiva costanzo preve quella che si autocelebra come la più grande democrazia del mondo corrisponde infatti con la più grande disumanità del mondo con il non plus ultra della figura contemporanea dell'imperialismo etico sappiamo che proprio oggi il generale iraniano quassem soleimani è rimasto ucciso insieme ad altri sette uomini si contano almeno 12 feriti tra i soldati iracheni oltre a diversi civili cos'è accaduto è accaduto che un attacco per mezzo di elicotteri e razzi ha colpito l'aeroporto di bagdad il presidente della monarchia del dollaro e della civiltà del mcdonald donald trump ha cinguettato in rete mettendo dinanzi agli occhi del mondo intero una bandiera americana dopo il vigliacco attacco ai danni dell'irac e il pentagono ha confermato e ha fugato ogni dubbio gli stati uniti hanno ucciso il comandante iraniano quassem soleimani e l'hanno fatto non per caso o per un incidente bensì rispondendo a un preciso ordine di donald trump ciò ci permette di ribadire una volta di più un aspetto su cui più volte abbiamo richiamato l'attenzione ossia il fatto che quale che sia la politica interna della monarchia del dollaro di tipo sovranista alla trump o di tipo cosmopolita alla clinton che prevalga la tendenza repubblicana o quella democratica immutata resta nella sua essenza la politica estera degli stati uniti che è resta appunto una politica di tipo imperialistico una politica che si autocelebra come sovranista nel caso di trump ma che in realtà sempre è imperialista che si auto elogia come cosmopolita e aperta al mondo nel caso dei democratici di clinton ma che sempre resta imperialista nella sua essenza non occorre a riguardo un particolare acume per distinguere schiettamente fra sovranismo e imperialismo il sovranismo è la rivendicazione giusta della propria sovranità nazionale come base della democrazia dei diritti e del della possibilità di autodeterminarsi come popolo laddove invece l'imperialismo è la patologia della sovranità nazionale e ha a che fare in verità più che con lo stato nazionale con l'impero e con l'idea adesso annessa di poter inglobare per via militare quanti non siano stati ancora annessi all'impero ecco perché quello statunitense più che un sovranismo deve essere inteso come un imperialismo essendo gli stati uniti d'america più che uno stato nazionale un vero e proprio impero che proponiamo di chiamare monarchia neoleviatanica del dollaro la vera notizia è che in realtà non è stato ucciso quassem soleimani da un raid statunitense come titolano tutti i giornali e come vuol far credere il ministero neo-rueliano della verità occorre avere il coraggio di ricategorizzare la realtà di liberarsi dalla neolingua e dal bipensiero e soprattutto conseguentemente di chiamare le cose con il loro nome perché in effetti molto spesso il linguaggio stravolge la realtà in una spietata attuazione della riflessione di Gadamer secondo cui l'essere che può essere compreso è linguaggio la nostra comprensione della realtà insegnava Gadamer in verità e metodo è sempre mediata dal linguaggio e talvolta il linguaggio può oscurare e rovesciare la realtà più di quanto non aiuti a comprenderla e quindi è accaduto che il generale dei Pasdaran è rimasto ucciso in un attentato terroristico statunitense si tratta tutti gli effetti di un attentato terroristico le parole hanno un peso specifico non di un attacco di esportazione della democrazia o di difesa dei diritti umani che sono poi la foglia di fico puntualmente impiegata dall'imperialismo statunitense per far passare come gesto nobile i propri vergognosi e ignobili attacchi imperialistici si tratta lo ripeto di un vero e proprio attentato terroristico ciò che come ricordavo poco anzi contribuisce a determinare il fatto che se vi fosse un premio per il terrorismo internazionale esso andrebbe necessariamente assegnato alla monarchia del dollaro si tratta di un attacco imperialistico e terroristico che è avvenuto in una struttura civile di un paese terzo che non è l'iran e che non sono gli stati uniti d'america essendo invece l'iraq soleimani poi è la figura militare più popolare importante in iran e sappiamo che è stato il nemico principale dell'isis è stato altresì il simbolo della rivoluzione della resistenza iraniana a quattro decenni di guerre in medio oriente timbrate puntualmente usa sicché l'uccisione di soleimani non deve passare inosservata e non passerà inosservata in iran anzi possiamo affermare plausibilmente che questo gesto ignobile firmato dagli stati uniti d'america graverà pesantemente sugli equilibri di tutto il medio oriente il 2020 test è iniziato si prospetta a tutti gli effetti come un anno di nuove guerre che vede protagonista un trump che ha ormai di fatto ceduto completamente ai desiderata del pentagono trump è ormai un burattino nelle mani del pentagono e del deep state come viene puntualmente definito è la maschera di carattere dietro la quale opera la potenza talassocratica statunitense e segnatamente la finanza globale che ha sede negli stati uniti si è trattato di un vero e proprio attacco barbaro degli stati uniti in iraq per colpire l'iran i barbari di washington con il loro squallido imperialismo dei diritti umani e della democrazia missilistica ad asporto si confermano dunque i nemici principali del genere umano dopo il 1989 non mi stancherò di ribadirlo siamo entrati nella quarta guerra mondiale quella che la monarchia del dollaro uscita vincitrice dalla terza la guerra fredda ha dichiarato a tutti gli stati non allineati al nuovo ordine mondiale che impone il washington consensus e l'inglobalizzazione come l'abbiamo definita in globalizzazione la lotta di classe al tempo del populismo tutti gli stati non allineati con l'americanosfera debbono d'imperio essere bombardati in nome dei diritti umani colpiti con i missili in nome della democrazia da asporto in sostanza l'imperialismo statunitense si nobilita agli occhi dell'opinione pubblica con altrettante categorie come quella dei diritti umani e della democrazia democrazia e diritti umani che in realtà nulla hanno a che vedere con le ignobili pratiche neoimperialistiche statunitensi che sono volte a destabilizzare a bombardare ad annettere quanti ancora non si siano arresi al nuovo ordinamento post 1989 che vede l'intero mondo soggiogato dalla monarchia del dollaro e da un impero senza confini che ha sede a washington ecco perché tra i principali nemici del leviatano a stelle strisce figura oggi esattamente l'iran reo di non essere allineato con il washington consensus reo di essere uno stato resistente alla monarchia del dollaro reo di essere uno stato armato fino ai denti e quindi in grado di svolgere una feconda funzione di dissuasione rispetto al delirante imperialismo statunitense basato sull'ideologia veterotestamentaria della special mission dell'essere l'unica nazione indispensabile così bill clinton nel 97 definì gli stati uniti d'america l'unica nazione indispensabile al mondo e l'ideologia veterotestamentaria che si traspone sul piano geopolitico e che fa sì che gli stati uniti osino presentarsi come l'unica nazione indispensabile quindi come portatrice di una missione civilizzatrice che in realtà è una missione colonizzatrice per riprendere le parole dell'antico tacito chiamano pace quello che in realtà è un deserto fanno il deserto e lo chiamano pace scriveva tacito con parole che si applicano benissimo alla barbarie a stelle strisce ovunque dilagante sicché occorre senza ambagi e senza perifrasi edulcoranti affermarlo con forza bisogna appoggiare tutte le forme dell'imperialismo contro la barbarie a stelle strisce tutti i popoli aggrediti hanno il diritto di resistere di difendersi con ogni mezzo possibile contro i barbari di washington la resistenza è sacrosanta e deve essere sempre legittimata ed è curioso il fatto che questa resistenza gloriosa dei popoli aggrediti dai barbari di washington venga fatta passare per terrorismo laddove invece il vero terrorismo è quello dei barbari di washington che aggrediscono i paesi non allineati ciò che era ancora evidente ai tempi di sartre cioè il fatto che i popoli aggrediti hanno il sacrosanto diritto di resistere di opporsi in ogni modo rispetto agli aggressori oggi è del tutto passato sotto silenzio è stato completamente obbliato con l'ovvia conseguenza che ci si spinge a delle situazioni del tutto paradossali quali si sono registrate anche nel bel paese ad esempio matteo salvini che passa per essere un sovranista quando in realtà si rivela ogni giorno di più un semplice amico dei padroni del mondo imperialisti ha cinguettato in rete non senza aver messo in vista foto di se stesso insieme a trump ha postato le seguenti parole donne uomini liberi devono ringraziare il presidente trump e la democrazia americana per aver eliminato soleimani uno degli uomini più pericolosi e spietati al mondo un terrorista islamico un nemico dell'occidente d'israele dei diritti e della libertà fine della citazione di matteo salvini si tratta di parole inqualificabili inaccettabili che rivelano totale subalternità rispetto alla monarchia del dollaro e che rivelano se ve ne fosse ancora bisogno che non siamo al cospetto di un sovranismo come pure si presenta a parole verbalmente quello di salvini è una semplice sottomissione agli stati uniti d'america quegli stessi stati uniti d'america che ci trattano non già come un alleato bensì come una colonia senza dignità che dal 45 ad oggi occupano impunemente il nostro territorio con basi militari che si sentono liberi di fare dazzi quando più conviene loro come è accaduto recentemente con trump e che in realtà trattano l'europa tutta come una colonia come una colonia senza dignità in sostanza quanti consalvini appoggiano questo gesto vigliacco ignobile compiuto oggi dagli stati uniti sono quanti si dicono sovranisti ma in realtà sono semplici fedeli al padrone a stelle strisce stanno dalla parte degli imperialisti a stelle strisce e quindi dei nemici principali dell'umanità quanto a noi lo diciamo apertamente e senza perifrasi lunga vita i popoli che resistono all'imperialismo statunitense onore a soleimani che è morto da patriota e da eroe disonore invece eterno ai servi degli stati uniti ed israele occorre appoggiare tutte le forme della resistenza in nome di un multipolarismo netto che si opponga alla dittatura di washington e che faccia risorgere un multipolarismo di stati sovrani plurali la russia di putin deve svolgere da questo punto di vista nostro giudizio la funzione di equivalente simbolico del vecchio comunismo sovietico come potenza non allineata al blocco occidentale deve organizzare tutti gli stati sovrani non allineati in vista di un blocco antagonista multipolare di stati resistenti alla barbarie neoimperialistica di washington questa è la funzione della russia e l'iran si pone in quest'ottica come uno dei tanti gloriosi stati resistenti al nichilismo imperialistico statunitense